È tornato il pedofilo, cacciamolo dal quartiere. Mi dico una cosa. C'è scritto la verità qua sopra. C'è una sentenza del tribunale che lo stabilisce. Benissimo. E questo marchio, questa patente, lei, come se l'è guadagnata? Vuoi sapere perché? Perché il genio qua ha pensato bene di tornare nello stesso parco dove ha violentato la bambina. Io ho pagato per quello che ho fatto. Ma lei non poteva trovare un altro posto dove andare. ce l'è tornato giusto giusto nel suo quartiere. Mi sono fatto due anni di carcere. Adesso sono in terapia da un psicologo tre volte a settimana. Io ho il diritto di tornare a casa mia. E i bambini? Facciato con i bambini, quelli il diritto di vivere tranquilli non ce l'hanno. Vabbè. Lei ha idea di che possa essere stato a fare questa bella pubblicità? Sicuramente è stato Di Maio. Il padre della bambina. Quello non ha mai smesso di perseguitarmi. Io ho paura. Voi dovete difendermi. Lei adesso se ne torna a casa non andiamo a parlare con questo Di Maio. Però per cortesia, per favore, eviti di farsi vedere in giro che è meglio. Arrivederci. Davide. 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 Comissario, quelli per poco mi ammazzano. Voi dovete fare qualche cosa. Lei deve stare calmo. Avevo provesso all'ispettore che me ne stavo buono. È vero? Io ci ho provato, ma non ce la faccio. Quando me lo trovo davanti, penso a quello che ha passato mia figlia, e perdo la testa. E fa bene ad essere dispiaciuto. Perché quell'uomo oggi ha rischiato il linciaggio per colpa sua. Perché continua ad affiggere quei volantini in giro per la città fomentando la gente. Nessuno lo vuole qui. Non sarebbe neppure dovuto tornare. Può darsi. Ma resta il fatto che lei adesso si prende una bella denuncia per istigazione delinquere, cosa che sarebbe già dovuta accadere. E visto come sono andate le cose, anche una denuncia per aggressione. Mettete una volante giorno e notte sotto casa di Quattivo. Signore, mi aiuti? Ho perso la mia mamma. Sì, ho il telefono. Le chiamo sul numero a memoria. Emanuela! Vattene. Vattene! Ti prego, vattene! Non piangere. Tua madre sarà da quella parte. Vai, vai, vai. Mi aiuti. Emanuela! Emanuela! Mamma! Emanuela! Emanuela! Tu vuoi venire? Piccola, che ti è successo? Mi ho fatto male. Vattene. No, vattene. Tranquillo. Tutto basta. Ma che cosa le... Eh? Che cosa le hai fatto? Vattene, no! No! Vattene. 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 Adamo, lo sai cosa sto pensando? Che sono stati troppo buoni a furti uscire le prigioni. Che c'è fatta la bambina? Non le ho fatto niente. Adamo, e la bambina perché piangeva? Perché voleva il mio telefono. Io le ho detto di andarsene, non l'ha fatto e l'ho cacciata via. Non volevo farle del male. Adamo, ora abbasso questa favola. Che hai fatto la bambina? Salvatore, dimmi. La bambina dice che è stata lei ad avvicinarlo e che lui ha solo cercato di mandarla via. E la stessa cosa ha detto lui. Quindi non lo possiamo trattenere. Non ha fatto niente di male, anzi. Hai sentito? Te ne puoi andare? No. Ma che vuol dire no? Che significa? Devo fare una confessione. Del tipo? Poco dopo ho uscito di galera. Ho molestato un'altra bambina. In un altro quartiere. Lontano da casa mia. Adamo, pensa bene a quello che sta dicendo. L'ho già fatto. In galera sto bene. È l'unico posto dove non posso fare male a nessuno. Vi dirò dove e quando è successo. E potrete fare le vostre verifiche. E vedrete che sto dicendo la verità. Sono pronto ad assumermi le mie responsabilità.